Cari amici di Vox Italia TV, benvenuti a un nostro nuovo e importante appuntamento. Sono molto orgoglioso e felice di presentarvi l'ospite di oggi. Stiamo parlando del professor Giuseppe Tritto, presidente dell'Accademia Mondiale delle Scienze Biomediche. Salve professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Bene, cominciamo subito con il dire che il professor Tritto ha appena dato alle stampe un libro molto importante che fa e farà molto discutere. Prego la regia di mandare in sovraimpressione la copertina del libro che si chiama Fatti e misfatti, Cina, Covid-19, la chimera che ha cambiato il mondo. Professore, ci vuole fare un'introduzione sul perché ha deciso di scrivere questo libro e qual è la tesi che lei sostiene? Sì, il libro nasce da un'esigenza di cittadino europeo che si è trovato in quarantena a Roma, per caso, e che ha visto tutti i suoi colleghi italiani e stranieri impegnati in prima linea in questa epidemia di un virus sconosciuto, dove la comunità medica ha dato un contributo in vite umane importante. Ricordiamoci che l'Italia ha dato il maggior contributo di perdita di vite umane mediche e paramediche in tutto il mondo. E questo ha creato anche da parte mia come medico un sussuto di orgoglio e di vedere più in fondo quello che stava succedendo. D'altra parte, le comunicazioni contraddittorie sia dell'OMS che di diversi gruppi scientifici sull'origine del virus e sulla dinamica con cui il virus si stava propagando, ha sollevato numerose questioni nelle comunità scientifiche indipendenti, ma anche di quelle che lavorano nel settore virologico, della genetica e delle biotecnologie, su quello che stava succedendo in Cina e su quello che veniva poi trasferito nel mondo occidentale. Quindi ho scritto questo libro anche con la competenza che mi viene dal fatto di essere il presidente dell'Accademia Mondiale di Tecnologie Biomediche, un'organizzazione non governativa creata sotto la legge dell'UNESCO nel 1997, dove c'è un gruppo importante di accademici che lavorano nel settore della virusfera, della virusfera, ma anche della genetica applicata alla salute umana. Quindi, unendo tutta una serie di dati ricavati anche dai nostri corrispondenti accademici in Cina, in India, in Asia, negli Stati Uniti, in altri paesi europei, siamo riusciti, in questo libro, a riassumere un poco la storia della genesi di questo virus che è una chimera ricombinante, come viene definita dal punto di vista tecnico, e come questo virus si sia potuto diffondere dando questa pandemia. Quindi è un libro che è un documento online, diciamo così, perché siamo in fase ancora pandemica, siamo in una seconda fase per alcuni paesi, è una prima fase in altri paesi, non ci sono delle soluzioni specifiche e radicali per il momento, e i sistemi sanitari di molti paesi, non solo quelli in via di sviluppo, ma anche quelli occidentali, si sono trovati fondamentalmente impreparati di fronte alla gestione di questo rischio epidemico, il che comporta ovviamente tutta una serie di domande, di questioni. Quindi il libro pone anche sul tavolo tutta una serie di questioni alle quali bisognerebbe rispondere progressivamente o fare un'analisi scientifica e tecnica accurata, visto l'impatto enorme a livello sociale, a livello economico, a livello ambientale. Professore, con i vostri studi siete riusciti a capire quindi che questo virus è in realtà un'arma batteriologica? Allora, tutta la teoria iniziale, l'ipotesi iniziale data ufficialmente era quella che ci fosse stato un virus ricombinante che veniva da due specie completamente diverse, il pipistrello asiatico, in particolare quello della regione del sud, della Cina, di Guangdong e di Yunnan, che è un pipistrello particolare, e il pangolino, che è un formichiere asiatico, c'è il pangolino cinese, c'è quello della Malesia, eccetera. E attraverso una ricombinazione che finora nessuno è riuscito a spiegare, tutti ipotizzano una specie di ricombinazione selvaggia di due coronavirus, uno da una parte e uno dall'altra, e sono fusi, non si sa in quale ospite intermedio, perché finora nessuno è riuscito a trovare un ospite intermedio, e quindi abbia dato origine a questo virus chimerico ricombinante con una patogenicità specifica sull'uomo. Quindi la tesi portata avanti sin dall'inizio, o offerta al pubblico sin dall'inizio, di un'origine naturale del virus, primo, non abbiamo questo virus naturale, non c'era nessuno, secondo, non si è riusciti a documentare il vettore intermedio, che sarebbe il portatore del virus, che poi avrebbe infettato l'uomo, quindi il salto di specie. Quindi c'è un doppio salto di specie, fra due specie diverse, il pipistrello e il pangolino, che vivono in nicchie ecologiche completamente diverse, quindi la probabilità che loro si incontrano, si fondano, eccetera, è totalmente irrealistica, e secondo, non si è riusciti ancora a individuare un ospite intermedio, e terzo, da questo ospite intermedio fantomatico, ci dovrebbe essere stato il salto sull'essere umano. Quando uno esamina tutta la storia dello sviluppo dei coronavirus, della prima SARS dal 2002 al 2004 in Cina, che è la prima epidemia che scoppia a Pechino, e che coinvolge l'Istituto di Virologia dell'Accademia delle Scienze di Pechino, dove il virus viene SARS-1, viene studiato, si infetta del personale all'interno dell'Istituto di Virologia a Pechino, ma anche del personale che lavora in altri centri, come a Hong Kong, a Taiwan e a Singapore, dove questi campioni erano stati inviati o isolati, perché la SARS aveva colpito tutta l'ase fondamentalmente. Quindi c'è stata una propagazione, una fuoriuscita, già un primo leakage, come dire, una fuga, di un outbreak del virus SARS-1, nell'Istituto più importante di Virologia della Cina, che era quello di Pechino, che è un istituto ovviamente di livello 3, come si dice, di sicurezza intermedia, accademico-universitario. A questo punto incomincia tutta la storia dello sviluppo delle biotecnologie virali in Cina, molto spiccato, fino a condurre la creazione del laboratorio di livello P4 di Wuhan, che è il laboratorio di alta sicurezza, per il quale il governo cinese deve chiedere l'autorizzazione all'Organizzazione Mondiale della Sanità per aprire un laboratorio di livello P4, perché sono i laboratori che gestiscono i virus ad alta potenzialità patogena per l'uomo. Quindi può essere l'Ebola, può essere l'HIV, può essere la Zika e così via. Quindi i virus altamente patogeni già conosciuti. E naturalmente si studiano anche i virus potenzialmente patogeni che non sono finora conosciuti, si esplorano diverse famiglie di virus. Questi laboratori sono estremamente sofisticati, perché sono di alta sicurezza, richiedono delle procedure particolari, richiedono delle autorizzazioni particolari, sia a livello nazionale dal Consiglio nazionale dell'Agenzia di Sicurezza per i biopatogeni nel paese di origine, e richiedono il label dell'OMS, l'autorizzazione dell'OMS per aprire questo laboratorio. Nel periodo da 2005 fino a 2015 fondamentalmente, la Cina si impegna a istruire i suoi scienziati, mandandoli in diverse parti del mondo, mandandoli in Francia, in Olanda, in Australia, in Canada, negli Stati Uniti, in Inghilterra, per fare un upgrading della formazione dei virologi cinesi sulle nuove tecniche di ricombinazione genetica. Quindi, in tutto questo periodo, i cinesi collaborano con gli occidentali, pubblicano, creano delle chimiere ricombinanti in vitro, con delle matrici, si chiamano backbone SARS, e su questi poi incominciano a lavorare con degli inserti degli pseudovirus HIV, che la tecnica è stata inventata dai francesi, eccetera, per vedere di creare dei vaccini, inizialmente con l'idea di creare i vaccini contro l'HIV, contro l'AIDS, e portare avanti questo. Quindi, i cinesi accumulano tutta una serie di tecnologie, che non sapevano utilizzare prima, supportati dal mondo occidentale, che coopera in questa opera massiva di creare questo grande laboratorio P4 a Wuhan, sotto legge dell'OMS, con dei fondi enormi, che vengono sia dal governo cinese, sia dai gruppi internazionali, che partecipano al laboratorio di Wuhan. Il laboratorio di Wuhan viene costruito sul progetto del laboratorio similare francese di Lione, con l'aiuto dei francesi, ci sono stati diversi presidenti francesi che hanno spinto in questa cooperazione franco-cina, per creare i vaccini, fondamentalmente contro l'AIDS, e nel 2019 lo stesso Macron va a inaugurare il laboratorio di Wuhan. c'è un forte impegno da parte delle organizzazioni non governative americane, supportate dai fondi di Bill Gates, della fondazione Bill e Melinda Gates, ma anche dei fondi che vengono dall'Enaiege americana, e dall'istituto di Anthony Fauci, per cui ci sono tutta una serie di ricercatori americani, come Ralph Baric e North Carolina, che aiutano i cinesi, in particolare la professoressa Shi Jin Li, a sviluppare questi ricombinanti chimerici derivati dai SARS coronavirus. In tutto questo, i SARS vengono clonati, praticamente, come fanno ormai tutti i laboratori, in vitro, quindi si creano praticamente dei SARS sintetici, in vitro, questi vengono potenzialmente differenziati differenziati e separati a seconda del livello di patogenicità del virus, testati sui modelli cellulari, di cellule, eccetera. E così si arriva alla fine a creare questo virus ricombinante che ha una specificità unica per il recettore ACE2 umano, che è un recettore ubiquitario sulle cellule umane, o si trova in quasi tutti gli organi e tessuti umani, quindi è qualcosa che viene pilotato esattamente per andare su un recettore umano che non è presente né nel pangolino, né nel pipistrello. E questo è un primo aspetto, cioè quello dell'affinità molto alta, più del 94%, con il recettore ACE2 umano, molto più alto dell'affinità del SARS-1, quindi molto più patogeno a questo punto di vista. Secondo, e qui ci sono gli studi confermati dall'equipe del professor Montagnier, da gruppi franco-canadesi, da diversi gruppi ormai nel mondo, dai gruppi russi, eccetera, si evidenzia nel genoma del SARS-2, si evidenziano degli inserti, cioè delle sequenze nucleotidiche che non appartengono né al pipistrello né al pangolino e che sono nuovi. E questi inserti, il professor Montagnier l'ha ampiamente illustrato, c'è una pubblicazione, anche il gruppo degli indiani, due gruppi di indiani hanno dimostrato immediatamente questo fatto, questi inserti appartengono al virus dell'HIV. Ovviamente, questi inserti possono essere giustificati dicendo stiamo studiando un vaccino contro l'AIDS e quindi abbiamo provato a creare dei modelli sperimentali in laboratorio per fare questo. Ma c'è ancora un altro, un terzo aspetto che è estremamente importante, che è quello del cosiddetto inserto furinico, cioè quando il virus entra nella cellula ha bisogno del meccanismo cellulare per replicarsi. Questo meccanismo cellulare nella cellula umana è condizionato dal cosiddetto sito furinico di clivaggio della proteasi furinica, che quindi questa proteina che si apre e funziona come una forbicina, va a tagliare il virus in due parti e quindi attiva la replicazione. Allora devi avere l'affinità per il recettore furinico non solo extracellulare sulla membrana ma anche intracellulare. Questo sito furinico è specifico per l'essere umano, quindi è impossibile dire che attraverso una ricombinazione naturale si sia creata ipoteticamente questa affinità per il sito furinico endocellulare. Quindi questo è il terzo inserto praticamente, le tre caratteristiche nuove che si trovano in questo virus che non c'erano nella SARS-1 e che mostrano con tutte le pubblicazioni che hanno fatto i cinesi insieme agli americani, agli olandesi, eccetera, c'è tutta una sequenza storica in un periodo di 7-8 anni di pubblicazioni di alto livello scientifico che mostrano come i cinesi erano capaci di creare delle ricombinazioni di alta ingegneria genetica mettendo e togliendo inserti all'interno e cambiando anche l'espressione di superficie del virus. Quindi il risultato finale è stato la creazione di questi virus sintetici, questi ricombinanti chimerici ad alta patogenicità e a un certo momento c'è stato un evento non previsto nel laboratorio di Wuhan quello che riferiscono le osservazioni satellitari fatte dai gruppi di intelligence dei paesi occidentali c'è stato un evento azzardus event come viene chiamato nel laboratorio di Wuhan che è stato evacuato e non c'era più gente per un certo periodo di tempo e poi ha ripreso lentamente la sua attività si ipotizza che in questo periodo c'è stato il low break dei patogeni all'interno della zona di Wuhan propagandosi ovviamente facilmente sulla popolazione visto che il virus si trasmette per via aerea e quindi la sua contagiosità come oggi vediamo dappertutto e constatiamo nel mondo occidentale è molto alta i cinesi sin dall'inizio della epidemia a Wuhan mettono in evidenza che esistono due ceppi i ceppo L e i ceppo S che hanno una patogenicità diversa e una virulenza diversa quindi abbiamo l'S la forma cosiddetta lieve che ha una buona contagiosità però una bassa virulenza e la forma L che invece è estremamente virulenta nella prima ondata a Wuhan c'è una prevalenza del 70% della forma L quella altamente virulenta che crea un gran numero di morti a Wuhan e poi è dal posto dopo un mese o un mese e mezzo alla forma S che diventa prevalente questo uno può ipotizzare che queste due forme erano già in laboratorio così separate perché si creano cloni con diversa patogenicità quindi sono sfuggite delle varianti dello stesso virus ricombinante io direi a scanso di discussioni inutili perché ovviamente la discussione tecnica è sempre molto difficile la virologia la genetica della virologia le biotecnologie di tipo genetico e genomico sui virus sono estremamente complesse bisogna studiare le sequenze bisogna vedere applicare le tecniche di gain on function togliere un pezzo mettere un altro pezzo sequenze nucleotidiche bisogna studiare con i sequenziatori quindi con delle macchine estremamente sofisticate e creare in laboratorio questi virus artificiali quindi è qualcosa anche di estremamente complesso da comunicare al pubblico perché devi spiegare un poco tutta la virologia ovviamente questo è molto difficile è molto la come dire la terminologia legata a questo però quando si leggono attentamente tutti i lavori pubblicati dai gruppi cinesi in Cina in cinese e poi tradotti due mesi dopo tre mesi dopo ripubblicati in occidente tutti i gruppi che lavorano seriamente in questi settori di alta sicurezza e in rapporto anche ovviamente con il mondo militare che si appianca ai laboratori P4 inevitabilmente si comprende benissimo tutta la genesi la storia di questo di questa epidemia di questo virus e e quindi la difficoltà anche di dover comunicare a un pubblico occidentale molto più smaliziato quello che sta succedendo e come è possibile porvi riparo tenendo conto che la Cina è l'unico grande paese del mondo che pur avendo aderito alla convenzione per le armi biologiche per le bioweapons nel mondo non ha mai ratificato il trattato quindi è l'unico grande paese mondiale che non ha mai ratificato questo trattato e per cui in linea generale non avrebbe potuto avere l'autorizzazione per creare un laboratorio P4 sotto l'egida dell'OMS quindi questo ha delle implicazioni chiamiamole così geopolitiche molto importanti di responsabilità anche dell'OMS direttamente sulla gestione della crescita delle biotecnologie per scopo umano per la salute umana in Cina e quindi coinvolge anche in realtà le Nazioni Unite c'è da dire che non esiste un quadro legale internazionale un quadro un framework legale internazionale attuale emanato dalle Nazioni Unite che possa disciplinare questi laboratori tipo P4 ovviamente uno deve anche capire cosa succede un laboratorio P4 è un laboratorio di alta sicurezza quindi i virus patogeni possono essere studiati solo là per esempio in Italia ci sono solo due cioè è quello di Roma dello Spallanzani e poi quello di Milano del Sacco sono gli unici che possono se tu in un mondo accademico tu hai un grandissimo laboratorio di virologia vuoi studiare quel virus altamente patogeno in realtà non lo puoi fare perché sei un laboratorio P3 ma puoi studiare questo virus diciamo attenuato quindi preparato prima nel laboratorio P4 attenuato o modificato dando una coppia sintetica che però non abbia le caratteristiche di virulenza allora questo lo puoi studiare in un laboratorio P3 ma devi avere le autorizzazioni tutta questa ricerca è una ricerca che normalmente viene deve essere autorizzata al Ministero della Sanità deve essere autorizzata ai comitati etici deve avere anche una linea parallela di ricerca sull'antidoto da utilizzare contro il virus se per caso avviene un accidente tutto questo in Cina non è avvenuto visibilmente i cinesi che lavoravano su questi virus ricombinanti stavano a metà strada quindi non hanno assolutamente pensato a fare un vaccino o a trovare un antidoto che fosse efficace sui ricombinanti che stavano facendo nel momento in cui si è creato il problema i militari sono i militari medici dell'Accademia delle Scienze di Pechino sono intervenuti massivamente su Wuhan per disciplinare e recintare il focus il focolaio il focolaio infettivo ma fondamentalmente era troppo tardi questo tutto questo si racconta la storia nel libro molto dettagliato con tutti i riferimenti scientifici eccetera ma è solo per mettere in evidenza che è bene che la società civile si svegli oggi di fronte a questo che è il boom della ricerca biotecnologica della cosiddetta biologia sintetica synthetic biology in cui noi oggi siamo capaci anche da piccoli frammenti di un virus antico eccetera ricostruire questo virus completamente in laboratorio quindi anche farci la patent sopra per eventuali vaccini e così via e studiarli in laboratori di sicurezza nessuno può garantire che questi laboratori possano dare una sicurezza al 100% ma comunque se i laboratori vengono gestiti con un modello chiamiamolo così tipo militare le garanzie sono molto alte e comunque in ogni caso bisogna sviluppare la ricerca parallela sull'antitodo a quel virus che stai studiando cosa che non è stata fatta visibilmente in Cina tant'è vero adesso tutti stanno correndo per cercare un vaccino nel mentre che il virus cambia perché questa è un'altra bella qualità dei nostri dei nostri virus che loro mutano nel tempo con una certa velocità ci sono quelli che mutano più rapidamente e in genere sono i meno patogeni e quelli che mutano più lentamente quindi in realtà si adattano alle nicchie ecologiche e poi si differenziano progressivamente come si sta verificando con questo virus siamo partiti dalle due forme che le avevo detto in Cina poi gli inglesi hanno mostrato quando il virus ha incominciato a propagarsi che erano tre ceppi A, B e C oggi siamo arrivati a 11 ceppi se noi consideriamo solo la superficie del virus la cosiddetta proteina spike le varianti legate alla proteina spike quindi solo alle piccole spiccole di superficie del virus e 8 se noi teniamo conto del genoma completo il virus prevalente in Europa attualmente è l'A2A soprattutto nei paesi realmente europei in Inghilterra per esempio sono presenti tutte le varietà in maniera più o meno omogenea e negli Stati Uniti ha incominciato a sorgere la nuova varietà che è responsabile dell'attuale picco epidemico negli Stati Uniti che è la forma di 614G cioè praticamente un solo aminoacido è cambiato questo ha fatto sì che questo virus ha un numero di spike molto più alto più numeroso quindi la sua contagiosità è aumentata non sappiamo se questo si ripercuoterà sulla virulenza attualmente non sembra perché il numero di persone decedute rimane sempre nella stessa scala abbastanza bassa per il momento però la sua contagiosità quindi la trasmissione da una persona all'altra è aumentata e si osserva il secondo shift che è quello che questa varietà interessa molto di più le persone di età intermedia i giovani probabilmente anche per per un'accelerazione dopo il periodo della quarantena delle pratiche sessuali perché non dimentichiamo questo virus interviene per la via per la via orale nasofaringea eccetera quindi delle pratiche sessuali non classiche fanno sì che ci possa essere una trasmissione di questo tipo è quello che oggi incominciano a vedere i laboratori come quello di D.D. Raoult ma anche in Africa nei paesi africani mediterrani e anche in Cina ormai lo indicano c'è una trasmissione di tipo sessualmente trasmissibile del virus che complica ulteriormente le cose quindi un'informazione molto corretta alla popolazione dovrebbe essere lo sforzo fondamentale da parte dei mass media per far capire che senza entrare assolutamente nel panico c'è una maggiore contagiosità di questo nuovo ceppo virale oggi quello americano che è lo stesso che si trova ora in India in Russia eccetera che non sappiamo l'evoluzione di questo ceppo se diventerà più virulento o no o darà poi creerà la fuoriuscita di un altro ceppo e diventa più virulento ma meno contagioso quindi siamo in un pieno game realmente play game di queste differenze di questi ceppi virali della stessa origine dai quali sarà molto difficile sbarazzarsi direttamente professore lei prima citava nel corso di questo lungo esaustivo molto interessante intervento lo scienziato Montagnere che è stato fra i primi a dichiarare che in realtà secondo i suoi studi insomma la sua la sua capacità di cogliere questi fenomeni si trattava di un virus artificiale però aggiunse una postilla che aveva lasciato ben sperare cioè Montagnere disse però siccome la natura non accetta manipolazioni la natura stessa provvederà a farlo sparire era troppo ottimista Montagnere in questa sua no 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 in genere lui ha illustrato quello che accade in natura un virus nuovo che appare sulla scena della nicchia ecologica biologica naturalmente come un predatore no e però gli altri rispondono ci sono altri virus che vivono normalmente che in parte sono patogeni in parte non sono patogeni eccetera e quindi combattono questo predatore che entra per occupare una nicchia quindi c'è sempre una fase di attenuazione di qualunque virus nuovo che intervenga nella nicchia ecologica e lì c'è un rapporto come sempre fra ospite e patogeno e l'ambiente intorno cioè la batteriosfera la virusfera eccetera tutte queste caratteristiche intervengono a modulare la la persistenza di un virus in una nicchia ecologica o a favorire il suo innesto e poi c'è un calmieramento su questo questo è sono meccanismi biologici delle nicchie del di questo micromondo che è quello dei virus dei batteri dei miciti eccetera che avviene che avviene regolarmente ovviamente noi dobbiamo tener conto che una cosa è l'ambiente naturale in cui tutto avviene secondo le regole in natura un'altra cosa invece è l'ambiente artificiale che crea l'uomo e l'uomo crea un ambiente artificiale in cui trova un inquinamento atmosferico molto alto quindi le particelle le piccole particelle nocive che possono essere anche trasportatori del virus nell'aria eccetera il virus aderisce a queste particelle quindi viene trasportato alle condizioni di polluzione elettromagnetica dell'ambiente alle sostanze nocive vengono messe nel terreno per cui anche i stessi fertilizzanti e le polveri che sollevano quando vengono immessi su terreno aiutano anche che il virus si attacchi a queste polveri per poter essere diffuso quindi le condizioni e poi le condizioni igienico-sanitarie dei paesi delle città eccetera noi ci illudiamo che l'utilizzo degli antibiotici nel cibo possiamo fare a meno di disinfettare le strade di pulire gli ambienti eccetera se lei vede lo stato di degrado di molte città occidentali oggi mettiamo anche Roma insomma voglio dire è certo e favorirebbe enormemente la diffusione di virus e di batteri potenzialmente patogeni quindi bisogna stare attenti a definire le nicchie ecologiche sono una cosa naturalmente noi sappiamo quale succede a tutta la storia passata le nicchie ecologiche se c'è una variazione di temperatura una variazione climatica in una nicchia ecologica temperatura secchezza oppure troppo umidità oppure eccessivo esposizione ai raggi ultravioletti o pochi raggi ultravioletti eccetera questo cambia il comportamento delle diverse famiglie virali e batteriche quindi ha ragione in montagne per dire sì ci può essere una probabilità come succede anche per il virus dell'influenza eccetera tanti altri virus e batteri in passato che ci sia una acclimatazione diciamo un acclimatamento del virus nell'ambiente il problema in realtà non è quello il problema è quello della capacità del virus concepito dal punto di vista di bioingegneria in maniera specifica come diciamo noi sul bersaglio di avere il potenziale di diventare sempre più patogeno o di utilizzare le stesse armi della macchina cellulare dell'ospite per moltiplicarsi e questo è una cosa che si incomincia progressivamente a scoprire dagli studi in corso che questo virus non sarà così semplice da maneggiare ci auguriamo che si fermi in una nicchia ecologica che adatta e rimanga là ma il problema è che può anche immettersi in una nicchia chiamiamola così umana di cluster umani nelle città nei villaggi eccetera a seconda delle condizioni climatiche e avere delle riproduzioni diverse professore i russi hanno dichiarato di avere raggiunto la possibilità di diffondere di distribuire un vaccino lei crede diciamo nella dichiarazione del presidente russo sono arrivati per primi a raggiungere questo risultato oppure ancora è presto per dare un risultato definitivo dunque c'è molta confusione su termine vaccino tutti utilizzano i termini vaccino ma in realtà sono vaccini molto diversi l'uno dall'altro ci sono famiglie di vaccini diversi i vaccini in cui si parla come quello russo come i due americani di Moderna e Pfizer e poi gli altri quello anche inglese gli stessi vaccini che stanno preparando i cinesi quello di CamSing eccetera sono vaccini cosiddetti ad attività genomica e cosa vuol dire? che sono dei vaccini che si comportano come dei virus sono delle sequenze nucleotidiche di RNA RNA messaggero oppure DNA quindi è il materiale genetico allora quindi hanno l'affinità per entrare nella cellula umana quello di RNA funziona come un RNA messaggero che ordina al DNA della cellula ospite di creare una copia che va a contrastare il virus che tu hai nella cellula ok? quello di RNA invece agisce sul DNA umano può replicarsi ma può anche inserirsi nel DNA umano in maniera transitoria o in maniera permanente quindi questi virus che teoricamente teoricamente dovrebbero essere molto efficaci perché antagonizzano io prendo una sequenza di RNA o DNA e combatto il virus che è un virus a RNA questo qua ma può essere anche un virus a DNA quindi è come una battaglia virus buono che metto io dentro e il virus cattivo che sta nella mia cellula uno contro l'altro tutto questo teoricamente è molto bello teoricamente dovrebbe impedire la replicazione del virus all'interno della cellula una volta che è entrato e quindi bloccare l'insorgere della patologia nell'essere umano ora praticamente che succede? succede che i laboratori che fanno queste ricerche sono impegnati nel business dei vaccini tutta questa ricerca a monte fatta in vitro non viene pubblicata fa parte della patent del meccanismo di azione del vaccino quindi loro hanno bisogno dopo la fase 1 e 2 per dire che inietto questa sostanza nel corpo nel corpo umano e non mi da effetti collaterali non è un veleno non ci sono posso passare alla fase 3 in cui incomincio a dare una dose reale del vaccino a delle persone normali che non hanno patologie che vengono immesse o sono esposte in un ambiente dove c'è l'infezione dove c'è l'epidemia hanno una seconda iniezione di richiamo ad un mese di distanza e si vede quello che succede nei due mesi successivi se la persona prende la malattia oppure no naturalmente c'è l'altro braccio che riceve il placebo inizialmente quindi anche questo comporta dei problemi etici non indifferenti ci vogliono almeno 15.000 persone nella fase 3 di vaccino da una parte e dall'altra lato vaccino lato placebo quindi che tu inietti una sostanza che non è vaccinale e innocua per avere dei risultati tecnicamente comparabili e per dimostrare che il vaccino è safe quindi è sicuro ma già la fase 1 e 2 dovrebbero dimostrare questo e che terzo è efficace ora per fare questo nel mondo occidentale noi abbiamo bisogno dei comitati eti delle autorizzazioni sono soggetti volontari si deve essere di consenso informato e la gente quindi una procedura è estremamente lunga e eccetera eccetera bene nei paesi dove ci sono dei regimi diversi come può essere la Russia la Cina eccetera questi usano i militari come 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 test di sperimentazione nella fase 3 quello che sta accadendo in Cina e in Russia quindi c'è già questa differenza importante dal punto di vista proprio dell'approccio etico giuridico legale eccetera Putin ha annunziato che è un vaccino a DNA praticamente quindi che agisce sul sul genoma umano la Russia ha una grande esperienza ovviamente di biotecnologie di armi biologiche e batteriologiche i virologi russi sono molto molto forti sono in grado di lavorare con queste tecniche di genomica vaccinale quanto potrà funzionare nessuno nessuno lo può dire anche Putin nella sua intervista quando ha annunziato la televisione è stato cautamente ottimista perché? ma perché il virus sta cambiando ci sono diversi ceppi quindi uno può fare un vaccino attualmente contro il ceppo prevalente nel suo paese ma non può coprire tutta la popolazione quindi quello che ci si aspetta dai vaccini migliori che saranno due o tre alla fine quelli dei centinaio di vaccini di cui l'OMS prende conoscenza funzioneranno possono funzionare dal 30 al 60 per cento di copertura della popolazione e nessuno può garantire attualmente se quel vaccino che ha passato le fasi 1 e 2 potrà essere un vaccino realmente efficace tenga conto poi della tempistica e ci vogliono almeno due mesi per le due dosi per dare il vaccino poi devi aspettare almeno altri due mesi per vedere l'effetto sui due bracci di popolazione ci vogliono almeno 4 mesi questi risultati devono essere analizzati dai commissioni deve mettere un altro mese un altro mese e mezzo cioè ci vuole almeno nella fase più rapida di creazione vaccinale di questo tipo 6 mesi di valutazione per poter dire adesso possiamo fabbricare il vaccino in grandi donsi quello che c'è da riflettere però oggi su questa storia di questi vaccini genomici è il fatto che non ci sono ricerche sperimentali pubblicate a monte cioè io ho l'idea che facendo utilizzando questi neocriotidi con questa tecnologia con questo schema posso realmente drogare il meccanismo della cellula che se infischia del virus e prende il mio nucleotide e quindi blocca la mia sequenza e quindi blocca la replicazione virale se qualcuno mi mette le pubblicazioni su tavolo di tutte queste cose se pubblicazioni ovviamente i laboratori tengono abbastanza coperte queste informazioni perché c'è il problema delle patent eccetera quindi in realtà non c'è una verifica sperimentale che purtroppo può essere fatta solo sull'uomo oppure in laboratorio in vitro sulle cellule umane di tutto questo quindi siamo in piena ricerca clinica sperimentale siamo nell'era della della biologia sintetica di laboratorio e poi sull'essere umano questo dovrebbe aprire un dibattito sereno coerente corretto senza animosità su quello che la biologia sintetica oggi può dare in termini di beneficio per l'essere umano perché possiamo curare con queste nuove tecniche possiamo pensare di curare il cancro altre malattie geneticamente importanti eccetera quindi quindi e però non abbiamo dei consensi sulle sui meccanismi di azione come per ogni farmaco quindi bisogna bisogna avere aprire un dibattito anche a livello scientifico molto serio e molto autonomo senza senza criticare nessuno perché la scienza che va avanti il futuro della nostra scienza sarà la biologia sintetica dal punto di vista biologico e dell'essere umano più conosciamo il materiale genetico umano più siamo in grado di affrontare di utilizzare delle tecniche più sofisticate prenda la tecnica CRISP adesso la CRISP Cas 9 che permette di togliere dei frammenti sostituire dei frammenti del DNA umano per certe malattie questa tecnica sta sviluppando in maniera enorme in tutti i grandi laboratori è una tecnica sta semplificando enormemente quindi la manipolazione genomica diventa un qualcosa di quotidiano lei pensi che molti anni fa più di 15 20 anni fa per creare un virus in laboratorio ricombinante ci volevano fondamentalmente 100 mila dollari di investimento adesso qualche anno fa una decennia di anni fa erano 10 mila adesso con 1000 dollari tu ti puoi fare un virus ricombinante nel tuo laboratorio tanto per dire il cambiamento dei costi quindi quindi direi che al di fuori degli annunzi sensazionali che possono essere fatti a livello politico per diverse ragioni anche perché se hai un paese dove la popolazione si infetta progressivamente aumenta in proporzione anche il numero dei morti devi comunque dare delle soluzioni o delle speranze di soluzione alla popolazione questo è ovvio questo si capisce dal punto di vista dei decision maker politici eccetera tecnicamente la cosa è molto più complessa i gli scienziati sono molto prudenti recentemente è stata un'intervista del professor Collins che è il direttore dell'NI negli Stati Uniti che ha parlato con molto entusiasmo dal punto di vista scientifico e tecnico di questi nuovi vaccini della Moderna di Pfizer che sono dei vaccini appunto di tipo genomico eccetera ha parlato di meccanismi eleganti di soluzioni eleganti dal punto di vista biologico però anche detto siamo attenti e qui nella fase 3 ci vuole un numero importante di pazienti non sappiamo assolutamente se questo questo approccio vaccinale chiamiamolo così possa essere efficace oppure no questa è un po' la realtà sarei prima a dire ok si è trovato un vaccino bellissimo fantastico e funziona per tutti eccetera ma già la realtà della variazione dei ceppi di questo virus fa sì che non è possibile pensare a un vaccino universale unico anche perché la Cina non ha mai dato il virus madre non lo darà mai quindi questo è anche un problema fondamentale di relazioni internazionali e secondo se ci saranno 3-4 ceppi prevalenti in un paese si potrà creare un vaccino cosiddetto polivalente che copre i ceppi principali in un paese ma non sarà mai un vaccino al 100% sarà sempre al di sotto del 70% questo mediamente non lo dico io lo dicono proprio quelli che lavorano sui vaccini quindi professore da quello che abbiamo capito nell'ascoltare diciamo in affascinato silenzio la sua lezione è che non c'è dubbio che questo virus sia di origine artificiale cioè che nell'ambito degli scienziati questo sia un dato diciamo accettato da tutta la comunità onestamente devo dire non farei più discussioni su questo partiamo proprio dalla caratteristica del virus chimerico ricombinante RNA tipo RNA messaggero positivo con delle caratteristiche e con gli inserti e con gli inserti che non possono sì sì no questo ragionamento è stato molto chiaro dopodiché lei dice il virus il vaccino non è detto che riuscirà a coprire necessariamente a dare una soluzione per tutti i diversi ceppi che stanno mutando non è detto che sia la soluzione migliore che sia la soluzione a questo problema però io volevo chiudere questa intervista chiedendole un altro aspetto cioè si discute molto in Italia ma non solo in Italia di un uso strumentale di questa pandemia per ottenere diciamo dei risultati diversi c'è chi dice che viene cavalcata la paura di fronte diciamo a un tasso di mortalità che è basso e alla presenza di molti positivi che però sono asintomatici altri discutono sull'efficacia di misure di prevenzione come le mascherine a detta di alcuni inutili per altri invece indispensabili può fare chiarezza e inchiusura su questi aspetti io direi in tutta questa storia bisognerebbe essere un poco più saggi pacati e razionali in un certo senso no? perché il virus ok è un virus nuovo che la gente non conosceva sin dall'inizio ci sono date informazioni sbagliate su come il virus veniva trasmesso la trasmissione per via aerea veniva completamente messa da parte e poi ci è voluta la pressione dei ricercatori nel mondo per convincere per far ammettere ma dopo alcuni mesi all'ONS che il virus poteva essere trasmesso anche per via per via aerea dunque questo è un fatto era già un fatto importante tutto questo naturalmente pone il problema della trasmissione per via aerea e quindi della contagiosità e questo è un po' simile anche per un raffreddore se tu non vuoi trasmettere all'altro ti metti una mascherina che blocchi il passaggio del virus che tu porti con te all'altra persona e la contamini ovviamente anche sulle mascherine c'è stata molta confusione perché a tuttora non si è riusciti a definire uno standard di maschere che potessero permettere alla gente di respirare normalmente ma anche di bloccare la particella virale in quelle dimensioni quindi le maschere normalmente più utilizzate bloccano al 95% i virus ma sono quelle che dovrebbero essere date solo al personale medico e paramedico ma non alla società civile anche questa confusione di dire che la maschera chirurgica quella banale può essere utilizzata da tutti in un sistema di difesa eccetera non è dimostrato da nessuna parte che insomma che gli istituti tecnologie come hanno fatto in America comunque il Vice Institute a Harvard ha categorizzato le diverse categorie di maschere dicendo chiaramente quelle che avevano una capacità di filtro importante e quelle che non avevano assolutamente era una protezione banale se tu starnutisci se tu tossisci ti blocca la maggior parte le particelle c'è anche un altro aspetto che non è stato mai chiarito qual è il livello minimo di carica virale che permette di contagiare una persona se lei vede prende tutta la letteratura mondiale non c'è una sola pubblicazione su questo che è una cosa fondamentale dire qual è la carica minima virale che permette a una persona che è portatore del virus di trasmetterlo ad un'altra persona questo è fondamentale questo tara anche la barriera il filtro che tu fai con 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 le maschere quindi il fatto di di andare a dire che sono tutte queste teorie di di strane di strane strategie no no la strategia è stata è molto banale in un certo senso c'è un grande paese che ha sviluppato delle biotecnologie sui virus sia per la ricerca dei vaccini e sia naturalmente per la ricerca militare come succede in tutti i grandi paesi è un paese però non era incluso in quello che era la convenzione per le armi biologiche e quindi il paese si è permesso di fare altre cose quando da 2014 al 2017 c'è stata la sanatoria la moratoria moratoria in America per bloccare le tecniche di ricombinazione gain of function a livello nazionale a livello del national delle naiege dell'istituto nazionale di ricerca eccetera molti degli americani trasferirono questa ricerca nel laboratorio di Wuhan con i fondi americani i laboratori di Wuhan quindi poi quando cambiò il presidente americano ci fu un periodo nel periodo di transizione del cambio le autorità nazionali abolirono la moratoria quindi i laboratori americani li pressero a fare il lavoro che facevano prima quindi voglio dire non c'è nessun complotto su questo è molto a mio modo di vedere io non vedo niente di tutto questo c'è stato un paese che è andato al di là di quelle che erano le sue capacità di controllo della ricerca biologica e virologica c'è stato un accidente in un laboratorio può capitare anche in un laboratorio occidentale può capitare a Pasterro a Parigi può capitare negli Stati Uniti qualunque qualunque altro laboratorio i livelli di sicurezza non erano sufficienti anche se l'OMS aveva garantito che erano sufficienti questi sistemi di sicurezza il sistema militare di accoppiamento con questi P4 non era ancora ben definito e ben sviluppato in Cina tutto questo ha portato a una fuga di questi di questo virus ovviamente quando è arrivata questa epidemia i paesi non erano pronti se lei legge le le dichiarazioni del presidente americano Bush nel 2005 quando dice all'NI age quando fa come ogni anno il presidente americano fa una relazione all'istituto nazionale di sanità e dice attenzione nei prossimi anni avremo delle epidemie virali che ci costringeranno a cambiare il nostro modo di prendere in carico le malattie ma noi siamo veramente pronti per affrontare delle epidemie e pone la domanda ai tecnici datici delle soluzioni proponenteci dei progetti nello stesso anno Obama che era fresco senatore a Chicago dice la stessa cosa nel 2005 nel 2014 Obama fa lui presidente adesso fa un altro speech all'NI age e dice la stessa cosa ripete la stessa cosa c'è un rischio di epidemie virali da coronavirus quindi già la gente sapeva il tipo di virus che si stavano manipolando a quell'epoca stavano studiando a quell'epoca e dice beh incominciamo a prendere delle misure o a provare a sviluppare dei progetti che se per caso capita un'epidemia da noi che cosa dobbiamo fare Bill Gates nel 2016 fa la famosa intervista a TED dove parla chiaramente come se fosse un progetto di ricerca di questo pericolo dei coronavirus nel mondo e poi c'è la famosa riunione al forum mondiale dell'economia a World Summit Forum ad Aspen dove addirittura si simula nel 2019 si simula una pandemia da coronavirus qualcuno può chiedersi ma perché i coronavirus tenga conto che i coronavirus dai servizi di intelligence nel mondo nel 2007 nel 2008 sono stati classificati come virus di classe A cioè quelli più patogeni per l'uomo tutta la famiglia dei coronavirus quindi ci sono delle cose che nascono all'epoca della SARS-1 fondamentalmente quello che succede nella SARS-1 in Cina che ha allarmato tutti i paesi ora non stiamo a fare la dietrologia della SARS-1 perché non la finiremmo più quindi i paesi sapevano che si poteva sviluppare un'epidemia soprattutto al coronavirus tenga conto che i coronavirus sono i virus prevalenti come patologia negli allevamenti aviarie e negli allevamenti suini abbiamo avuto delle epidemie intere negli ultimi anni in Cina e nel mondo occidentale dove hanno ucciso animali in quantità importante per bloccare queste epidemie aviarie e suine sugli animali poi alcuni di questi coronavirus sono passati anche sull'uomo quelli cosiddetti influenzali i quattro tipi classici quindi tutto questo c'era un allarme c'erano dei segnali a livello mondiale i paesi che hanno la forza di sviluppare biotecnologie naturalmente si consideravano pronti per affrontare questo evenienzo almeno gli scienziati pensavano di essere pronti i sistemi di sanità occidentali lavorano sulle malattie nostre quelle occidentali quindi è molto difficile avere un sistema occidentale che è capace di affrontare una malattia infettiva africana di altro tipo perché primo i medici non sono preparati a fare questo il tipo di lavoro della diagnostica rapida immediata di laboratorio e quindi poi delle tecniche di terapia che devono essere fatte in vitro inizialmente per testare i diversi farmaci possibili e immaginabili non ci sono laboratori equipaggiati per questo per le malattie infettive anzi addirittura in molti paesi in occidente hanno chiuso diversi servizi malattie infettive perché erano considerate inutili inutili da questo punto di vista quindi i sistemi sanitari dei paesi occidentali sono trovati impreparati la difficoltà l'OMS non è stata mai capace di gestire correttamente né la distribuzione dei laboratori P4 né tantomeno le politiche sanitarie quello di cosiddetto di risk management quindi gestione del rischio epidemiologico a livello mondiale fra i paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo si è sempre considerato i paesi sviluppati stanno là sono una referenza loro sono capaci di fare tutto e assorbire tutto e poi ci sono i poverini dei paesi in via di sviluppo i poveri eccetera in realtà questa epidemia ha mostrato come i paesi occidentali non erano assolutamente pronti la classe medica non era preparata ad affrontare la gestione di un virus conosciuto che ti arriva fra i piedi da un giorno all'altro quindi c'è un problema anche dei laboratori che cosa devono fare come devono fare i depistage i test diagnostici eccetera e poi il testaggio delle terapie in vitro sulle cellule infettate tu provi può essere anche un qualunque antibiotico vecchio un farmaco banale come si è visto in questa metà zona per la fase ultima dello storm citochinico in Inghilterra quindi non necessariamente devi andare a pensare a dei farmaci strani ma puoi avere già dei farmaci nella tua library che tu puoi utilizzare ma devi avere i laboratori e fare questo e se non hai questo ti trovi in una situazione che hai bisogno dei materiali d'urgenza come è stato per le terapie intensive e quindi non c'erano gli apparecchi di respirazione adeguati per pazienti di questo tipo con una ipo ipoossigenazione ma anche un livello basso della CO2 quindi ci vorrebbero delle pompe particolari che poi sono state fatte di corsa e nel frattempo la gente moriva e si è visto che in realtà andava meglio non intubare i pazienti perché sopravvivevano quindi tutto questo ha spostato anche la gestione della responsabilità chiamiamola così politica del rischio del risk management che succede a questo punto di vista bene quando li vede in Italia come anche in Europa non ci sono dei programmi attuativi di risk management di gestione del rischio in un'emergenza sanitaria di questo tipo dove stanno? non ci sono a livello europeo direttivo europeo non c'è niente adesso si incomincia a parlare di fare qualcosa eccetera a livello dell'OMS tutte queste emergenze vengono studiate solo per i paesi in via di sviluppo anche in America è successo la stessa cosa poi i sistemi politici di gestione della sanità se a livello di stati regionali eccetera come succede in Italia crea naturalmente un'assenza di una cabina di regia di pilotaggio forte decisiva che può permettere decisionale che può permettere di dare unità a tutte le iniziative per cui si è ricorso a quello esiste una legge internazionale per la salute che è proprio il framework legale che risale a 1940 molto vecchia dove è previsto che la quarantina la quarantena cioè mettere le persone isolate eccetera e la 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 forma legale più efficace per contrastare le epidemie e tenga conto che 1940 da allora non si è mai discussi questo quindi anche i paesi hanno detto c'è questo framework di legge internazionale sulla salute la quarantena bene facciamo la quarantena senza analizzare le conseguenze di una società che è molto più evoluta di quella che era 40 anni fa una società dinamica di movimento mobile eccetera e dove la gente non ha neanche gli spazi per poter in un certo senso decontaminare l'ambiente ci sono tante famiglie ormai soprattutto quelle emigrate che vivono in stanze molto piccole sono 6 7 8 persone eccetera quindi si immagina lei fa una quarantena basta uno solo che si muove infetta gli altri ed è quello che si è visto con le due navi la princess tutte le due navi dove lasciando la gente lì isolata nelle navi in realtà il virus si è propagato molto più facilmente quindi sono stati più morti quindi non si può dire che la gente abbia coperto sicuramente alcuni paesi avevano le informazioni giuste su quello che era successo a Wuhan e si sono preoccupati soprattutto fondamentalmente di non sovraccaricare il sistema pubblico di casi molto gravi dovendo gestire anche i casi normali cronici della medicina tradizionale e questo ha portato a delle decisioni fondamentalmente estremamente dolorose da questo punto di vista con un impatto molto negativo economico e sociale ma pensare che lasciando la gente a casa per un certo periodo il virus sarebbe sparito da solo direi direi non vorrei entrare nelle comiche di Chaplin eccetera ma insomma non funziona non funziona così sarebbe stato molto meglio comunicare alla popolazione le misure da prendere a creare un meccanismo educativo attraverso i mass media far comprendere l'importanza di tutte le misure di distanziamento sociale che poi alla fine vengono sopportate bene se la gente capisce il pericolo ma non la da paura il pericolo di contagiare o di essere contagiato segue le misure che erano che sono necessarie quindi di spiegare perché si sono persi tre mesi per far capire che il virus poteva essere trasmesso dalle goccioline dell'aerosol ma insomma questa è direi una questa è una follia un misuso un uso sbagliato della comunicazione dell'informazione scientifica da questo punto di vista la politica si è trovata in grande difficoltà perché fondamentalmente non sapeva che fare e le polemiche sui farmaci poi come è stata l'idrossiclorochina sì no eccetera ha creato altra confusione sia a livello dei decision makers sia a livello della popolazione e tutto questo una confusione totale che ha dimostrato l'assenza di una vera governance di un di un episodio che può verificarsi ancora di tipo epidemico senza una gestione del rischio che fosse condivisa che fosse chiara con degli esperti che sapessero cosa vuol dire un rischio un maneggio del rischio per malattie infettive da cause sconosciute e quindi si pone un grande problema sul reclutamento degli esperti sulla gestione del rischio condiviso quindi regole chiare da questo punto di vista perché se la risposta è quella diciamo di tipo medievale stai a casa fino a quando passa stai in quarantena fino a quando passa l'ondata di virus e di morti eccetera ci troviamo all'epoca del medioevo all'epoca della peste del manzoni che la peste era trasmessa attraverso l'epere bisognava stare a casa incappucciati coperti e non uscire se questo è il risultato di tutta la ricerca moderna io direi che bisognerebbe ripensare a tutto questo e bisognerebbe anche ripensare al modo in cui i paesi gestiscono le emergenze sanitarie ci vogliono delle task force robuste di persone realmente esperte presentare soli modelli epidemiologici matematici statistici quando la gente muore intorno agli operatori sanitari non è certo questo che si aspetta la gente la gente si aspetta delle risposte chiare sulla diagnostica e sulle terapie basta tutto il resto che uno mi dice ogni giorno ci sono tot morti salgono scendono un giorno sì un giorno scendono questo non ha nessun valore né sociale né economico né medico niente non è niente è inconsistente bene grazie professore per questa intervista che ha messo molti punti fermi e speriamo possa essere d'aiuto a una pubblica opinione che è molto confusa da un dibattito che è spesso troppo semplificato troppo suggestivo e mai preciso lei ha fatto una serie di citazioni da Bush a Obama a Bill Gates io ne ricordo un'altra che è quella di Attali spesso richiamata dai quelli che vengono definiti complottisti che nel 2009 in un'intervista all'Espress disse una piccola buona pandemia in futuro ci aiuterà a instaurare un governo mondiale chissà se l'aveva buttata lì lei che dice ci sono alcuni ci sono alcuni che pensano così ognuno poi si diverte come può grazie ancora professore grazie arrivederci arrivederci grazie a voi bene cari amici di Vox Italia TV abbiamo assistito oggi ad una vera lezione intorno al coronavirus una lezione magistrale molto approfondita che per chi ha desiderio di approfondire per chi non si accontenta alle semplificazioni del mainstream può tornare davvero utile questo lo ripetiamo spesso è uno dei compiti che questa TV si è dato quello di offrirvi dei punti di vista che gli altri non vogliono o non possono darvi per farlo per continuare a farlo abbiamo bisogno del vostro sostegno anche economico la regia mi ha dato in sovraimpressione i dati per donare in favore di Vox Italia TV siete voi i nostri unici editori possiamo restare in onda soltanto fino a quando voi deciderete che è il caso di restarci alla prossima a Grazie a tutti.